Iniziative culturali, sentieri, musei, giornate educative con l'outdoor education per mettere a valore la flora e la fauna selvatica dei luoghi della montagna, in questo caso come Scanno e Villa Lago, questi alcuni degli argomenti al centro di un tavolo di confronto nella giornata internazionale della montagna. Una tre giorni per parlare di sicurezza e salvaguardia dell'ambiente, della montagna e lavorare a future campagne di sensibilizzazione, accoglienza e manutenzione dei parchi e delle zone di balneazione, tra gli interventi anche il vescovo di Sulmona, Michele Fusco, che nell'intervento ha ribadito come la montagna sia appunto cardine per la ricerca di se stessi e della spiritualità dell'uomo, attraverso proprio la presa di coscienza, la consapevolezza del rispetto per il creato. Fernando Ferrara rilancia sulla polemica degli ambientalisti che gestiscono le riserve e le battaglie ancora in corso, facendo riferimento anche agli ultimi nazionali come il blitz dei corsi d'acqua tinti di verde, salvaguardia inoltre delle aree interne e dei parchi con una visione sulla politica dei no che va a scardinarsi e a lasciare spazio alla cultura integrativa affinché l'uomo fruisca delle risorse senza abusarne. Con la nuova legge regionale dei parchi 2018, le comunità locali fanno parte dei progetti di tutela, andando a coprire un gap delle aree a vocazione agricola con la produzione di eccellenze, cercando proprio di dare supporto ai comuni per la promozione dei luoghi e dei prodotti. Uomo al centro e natura intorno, una partita che si gioca sui territori con indicazioni strategiche e lavora in sinergia, oltre fondi per i progetti di comunità che mettono a valore la storia e la pratica quotidiana della logica dello sviluppo sostenibile, con un dialogo tra corpi intermedi, istituzioni e comunità stesse, che in molti casi i residenti oscillano dai 5.000 ai meno 300, senza avere la giusta attenzione amministrativa e la necessità che vadano a coprire i diritti dei cittadini, quali sanità, istruzione e trasporti. Emanuele Imprudente, vicepresidente della regione Abruzzo, dichiara la conservazione di un luogo di montagna dunque non blocca gli investimenti, tra cose fatte e cose da fare, sì a un cambio di atteggiamento e percezione, ponendosi davanti alle comunità di montagna con apertura e presenza, ristabilendo i ruoli e garantire con aderenza la qualità della vita dei cittadini. I fondi PNRR in Abruzzo tra le linee di tendenza degli interventi giocano un ruolo fondamentale per la messa a terra di molti progetti e per l'attivazione delle green communities e poi ancora turismo di esperienza, multidisciplinarietà e nuovi misteri al fine anche di trattenere le nuove generazioni iper specializzate e favorire la crescita abbattendo le criticità e creando opportunità.